Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Valentina Angotti, la protagonista di questo caso, ha 35 anni e due figli quando viene soccorsa dagli uomini del 118 e salvata miracolosamente dopo aver tentato di togliersi la vita. La donna viene condotta in ospedale a Monza, ma il suo risveglio non ricorda assolutamente nulla dell'accaduto, né il tentato suicidio, né i motivi che l'avrebbero spinta a questo gesto estremo. Quindi c'è da chiedersi cos'è successo realmente a Valentina? Ci troviamo in via Colleoni, a Seveso, un comune italiano della provincia di Monza e Brianza, dunque in Lombardia. È il 5 ottobre 2017 quando al 118 giunge la chiamata di Antonietta Biancaniello, che si identifica letteralmente come la suocera di sua nuora. Ciega di essere tornata a casa della donna dopo aver fatto un rapido salto in farmacia. Sua nuora, a quanto dice Antonietta, è riversa sul pavimento del corridoio di fronte al bagno in un lago di sangue. Si era tagliata i polsi. Nel frattempo vengono chiamati anche i carabinieri, che si precipitano verso l'appartamento in via Colleoni. Prima ancora di raggiungerlo, individuano una signora, cioè Antonietta, che indica loro dove devono dirigersi. che li guida fino al piano superiore. Lì, nel corridoio, trovano Valentina riversa a terra e con la testa appoggiata su un cuscino. La prima impressione dei carabinieri è che la donna fosse priva di vita. Il maresciallo tastando la giugolare non avverte pulsazioni, ma poi sposta la mano davanti alla bocca e percepisce un lieve respiro. Il maresciallo a questo punto ordina al suo collega di sollecitare i soccorsi. Quando i soccorsi sopraggiungono, Valentina è ancora distesa a terra, nel corridoio. È molto pallida, sudata, ma fredda. Si trova in uno stato soporoso, viene risvegliata, stimolata, esegue semplici ordini che le vengono richiesti e, tendenzialmente, prova a rispondere alle domande. Il medico del 118 cerca di capire cosa si è successo a Valentina e si dirige nella camera della donna vicino al bagno. La scena che si ritrova è dominata da una cospicua presenza di sangue sul letto. Il medico si mette alla ricerca di eventuali farmaci e, proprio vicino al letto, individua un bisturi e una bottiglietta di bromazepam. Durante il tragitto in ambulanza, il medico fa un test per analizzare i valori della glicemia di Valentina. In questo momento c'è la convinzione generale che la donna abbia tentato il suicidio. E, inoltre, Valentina è un'infermiera. Accade spesso che gli operatori sanitari ricorrano anche all'insulina in un tentativo di suicidio. Così si scopre che Valentina è gravemente ipoglicemica. Risulta, infatti, che abbia un valore pari a 22 di glicemia. Il medico del pronto soccorso viene immediatamente informato che la paziente ha un'ipoglicemia. Dunque, durante la visita viene monitorata la glicemia per la seconda volta e risulta ancora bassa. A quanto sembra, Valentina si è tagliata i polsi. Ecco perché è stata portata d'urgenza all'ospedale di Monza. Ma cosa ricorda Valentina di quei drammatici momenti? Ricorda di essersi addormentata sul divano di casa e poi di essersi ritrovata in ospedale a Monza con i polsi fasciati. Ciò che non ricorda affatto è di essersi tagliata i polsi e, soprattutto, non le sovviene alcun motivo che possa giustificare quel gesto disperato. Quando i medici l'hanno informata che aveva tentato il suicidio e che risultava positiva a una sostanza chiamata bromazepam, Valentina ha reagito con perplessità. L'incongruenza maggiore sta nel fatto che la donna avrebbe tentato di suicidarsi con tre modalità diverse messe in atto tutte insieme. Prima si era stordita con i farmaci, poi si era tagliata le vene, tra l'altro sbagliando nell'esecuzione. Ciò risulta strano perché un'infermiera dovrebbe sapere che il taglio si effettua longitudinalmente e non perpendicolarmente, dopodiché aveva assunto anche l'insulina. Sembra il quanto inverosimile che una persona possa tentare di suicidarsi combinando tutte e tre queste modalità. Il marito di Valentina, Raffaele, a seguito di un evento così scioccante, non si mostra turbato. In ogni caso, quando Valentina torna a casa, Raffaele si occupa di lei. La donna non riesce a usare le mani e quindi ha la necessità di essere seguita in ogni aspetto della quotidianità. Intanto, gli inquirenti si interrogano. Valentina aveva davvero cercato di uccidersi? Oppure quello era un caso di tentato omicidio? Qualcuno aveva tentato di toglierle la vita ma di farlo passare come un suicidio? Innanzitutto è necessario trovare le risposte ad altre domande. Per cominciare, Valentina e Raffaele erano una coppia felice o in crisi? C'è una certezza, il giorno precedente al presunto suicidio, i due avevano litigato. Valentina e Raffaele avevano discusso a lungo per via di un cambio al turno lavorativo che lui aveva richiesto senza parlarne prima con Valentina. Raffaele avrebbe dovuto lavorare di notte e Valentina era assolutamente contraria in quanto uno dei suoi figli, affetto da diabete mellito di tipo 1, all'epoca non aveva l'apparecchio che serve per misurare la glicemia notturna. Di conseguenza Valentina e Raffaele si svegliavano ogni 2-3 ore per provvedere personalmente. Per Valentina rimanere a casa sola durante la notte significava riposare davvero malissimo. Almeno quando erano a casa entrambi potevano alternarsi, ma se Raffaele era impiegato nel turno di notte ad aiutare Valentina andava a sua madre o l'alternativa era passare la notte totalmente in bianco. In questo periodo il rapporto tra Valentina e Raffaele è in crisi, emerge che l'uomo ha più di un rapporto extraconiugale. Principalmente Raffaele tradisce la moglie con Darla, una donna brasiliana. Analizzando i conti correnti bancari di Raffaele e Valentina, le forze dell'ordine individuano tre bonifici a favore della mamma di Darla. Darla in tribunale ammetterà che Raffaele le diceva di voler mollare la moglie e i figli per stare con lei, ma la donna per tutta risposta continuava a rifiutare perché non era assolutamente innamorata di Raffaele. In realtà anche Valentina aveva un rapporto extraconiugale che durava da circa due anni e di cui peraltro Raffaele era a conoscenza. Il punto è che Valentina non sapeva che Raffaele aveva delle amanti, ma soprattutto non sapeva che spendeva parecchi soldi per loro, cena al ristorante, acquisti di abiti femminili. Quando Valentina lo scopre chiede spiegazioni al marito, il quale inventa una scusa poco probabile. Sostiene di aver prestato la carta di credito a un suo amico. Quindi nella coppia non ci sono soltanto problemi legati ai tradimenti, ma le liti avvengono anche per questioni sui soldi. E sono proprio i soldi, secondo l'accusa, uno dei motivi che hanno spinto Raffaele Rullo a cercare di eliminare la moglie il 5 ottobre. Valentina infatti aveva scoperto un fatto veramente grave. Uno dei figli della coppia ha un libretto di deposito su cui viene versata mensilmente una pensione. La percepiva in quanto, in riferimento alla legge 104, l'Inps lo aveva riconosciuto come invalido. Valentina però si era accorta che erano stati effettuati dei prelievi da questo libretto. Chiaramente lei non voleva assolutamente che Raffaele usasse quei soldi, perché erano destinati al figlio. Valentina, arrabbiata, aveva mandato un messaggio a Raffaele scrivendo, entro oggi, voglio i soldi nella cassetta, se no non tornare a casa. Poco dopo gli aveva inviato un altro messaggio, ribadendo, voglio i soldi. Questo aspetto era uno dei motivi di discussione tra i due. Valentina non era economicamente autonoma, gestiva tutto Raffaele. L'uomo era sempre alla ricerca di denaro, voleva trovare sempre modi per fare soldi. Mentre per l'accusa Raffaele è un soggetto avido e ossessionato dai soldi, tanto da decidere di eliminare la moglie che ostacolava le sue mosse, per la difesa invece Raffaele è un ingenuo, un uomo semplice, incapace di progettare un simile piano. Tanto ingenuo da pensare di poter aprire un negozio di manicure gestito dalla moglie e dall'amante Darla. Valentina alla fine si era tirata indietro da questo progetto proprio perché aveva scoperto che Raffaele e Darla erano amanti. I piacesi contrasti avevano preso vita proprio da questo momento. Raffaele in aula ripercorre la giornata del 5 ottobre. Riferisce che si erano svegliati presto, come tutti gli altri giorni, si erano preparati per la giornata, ma Valentina si sentiva tanto stanca, come se avesse l'influenza. Aggiunge che durante la notte Valentina aveva anche avuto problemi di stomaco, dunque si era alzata ed era andata in bagno a vomitare. Valentina però non ricorda né di essere restata male né di aver vomitato quella notte. In ogni caso, secondo il racconto, la donna aveva deciso di vestirsi e di fare la piastra i capelli. In mattinata Raffaele si era messo in contatto con sua mamma Antonietta e le aveva chiesto di andare a casa sua perché Valentina non stava bene. Intanto Raffaele cercava anche di convincere la moglie a non uscire. Valentina era così stanca che si era ridistesa sul divano per riposare, con la speranza di riprendersi in poco tempo per poter andare a lavorare. Erano le 7.45. Questo è l'unico ricordo vivido che Valentina ha di quella giornata. Dopodiché Raffaele spiega di aver preparato la cartella per suo figlio maggiore, mentre Valentina era ancora sdraiata sul divano. La donna aveva chiesto a Raffaele di portare il bambino a scuola e lui così aveva fatto. Di ritorno Raffaele aveva incontrato la vicina di casa, Valeria, e l'aveva informata che Valentina non si era sentita bene durante la notte. Valeria allora aveva fatto visita a Valentina, ritrovandola sdraiata sul divano con la coperta addosso. Aveva quindi detto a Raffaele di lasciarla riposare e se n'era andata. A quel punto Raffaele aveva tentato di svegliare Valentina. Lei si era messa seduta sul divano ma continuava a dire al marito di essere stanca. Così lui le aveva consigliato di mandare un messaggio per avvisare che avrebbero fatto ritardo al lavoro. Valentina aveva scritto arrivo in ritardo ma arrivo. Le sue colleghe quindi la aspettavano ma Valentina non era arrivata neanche dopo e non aveva risposto alle loro chiamate. Dalle nove in poi tutto ciò che è accaduto viene riferito da Raffaele Rullo perché nessuno è più entrato in contatto con Valentina. Raffaele racconta che a questo punto anche lui aveva chiamato al lavoro per avvisare che avrebbe ritardato in quanto sua moglie non stava bene. Sostiene poi di essere andato nel box sotto casa per prendere dei documenti ma in realtà secondo l'accusa Raffaele aveva già un piano da mettere in atto ossia trovarsi fuori da quella casa quando la moglie sarebbe stata scoperta con i polsi tagliati. Secondo il suo racconto mentre era in garage aveva ricevuto un messaggio dalla moglie che gli chiedeva di andare in farmacia per comprarle le pilole anticoncezionali. Lui le aveva risposto che stava aspettando l'arrivo di sua madre e che avrebbe chiesto il favore a lei. La cosa strana è che Valentina quel giorno dormì dalle 8.03 alle 16 dunque quel messaggio non poteva di certo averlo scritto lei. Secondo l'accusa quei messaggi si gli era mandati lo stesso Raffaele dal telefono di Valentina. Successivamente Raffaele era uscito di casa per andare al lavoro e aveva avvisato la vicina di casa Valeria dicendone che sua madre sarebbe arrivata presto per prendersi cura di Valentina. Secondo l'accusa Raffaele si era preoccupato di avvisare la vicina perché aveva bisogno di un testimone in grado di collocarlo lontano da Seveso durante il ritrovamento di Valentina con i polsi tagliati. La madre come previsto aveva raggiunto casa di Raffaele e Valentina. L'uomo prima di uscire di casa l'aveva incaricata del servizio in farmacia. Erano da poco trascorse le 11 del mattino quando entra in scena l'altra imputata, Antonietta Biancaniello, la suocera di Valentina. Ed è lei secondo la ricostruzione del PM che ha materialmente tagliato i polsi alla nuora. Antonietta dunque era entrata in casa trovando Valentina molto sofferente. Ma cosa racconta di aver fatto a questo punto? Antonietta racconta che Valentina era tornata in camera sua e si era messa a letto. Nel frattempo lei stava dando una sistemata alla casa, si era accertata che la lavastoviglia fosse partita, poi era tornata al piano di sopra per chiedere alla nuora se volesse una camomilla o una tisana. Valentina però le aveva chiesto di andare a prendere le pillole. Così Antonietta si era recata in farmacia. Al ritorno alle 12.23 Antonietta era salita al piano di sopra per controllare come stesse Valentina e sulle scale aveva intravisto la donna di Sbieco. Non era a letto. Dunque Antonietta aveva iniziato a chiamarla avanzando e ritrovando la nuora con le spalle al muro per terra di fronte alla porta del bagno. Valentina aveva le braccia protese in avanti con i polsi appoggiati sulle ginocchia in questo modo. Tutto intorno c'era tanto sangue così Antonietta era scesa al piano di sotto e aveva afferrato il suo telefono per chiamare il 118. Le era sembrato che la chiamata non fosse partita quindi l'aveva rifatta dal telefono fisso. In quel momento aveva ricevuto risposta sia dal telefono fisso che dal suo cellulare. Ma vediamo come si esprime durante il processo. La donna dice raccontando ciò che stava facendo. Il solito mio da fare in quella casa come fosse casa mia. Vedo se Raffaele a fa. Si corregge. Ha messo la lavastoviglia e tutte queste cose. Ritorno a salire. Vale vuoi una camomilla? Vuoi una tisana? È sul letto non stesa in lungo. Rannicchiata. Le tiro su le coperte, le lenzuola. Nonna fai una cosa. Vai in farmacia? Mi vai a prendere gli anticoncezionali? Devo andare io? Così non va Raffaele. Come vuoi? Perché io a mia nuora le ho sempre detto sì. Perché pure avesse avuto torto in quel momento le dicevo sì in quel momento. Dopo la riprendevo il secondo giorno le potevo dire guarda hai sbagliato. Vado allora in farmacia. C'è il cane in casa? Vabbè non lo chiudo perché loro avevano il vizio di chiuderlo. Così non andava per tutta la casa e distruggeva divani, quello che ci poteva essere. Lo lascio libero. Gli dico tanto non fa niente. Faccio come quando parli coi bambini. Si chiama Elsa il cane. Elsa io esco. Occhio che quando torno te le do sei fatto casino. È una mia abitudine giudice anche a parlare coi cani. Prendo il mio caffè, la mia borsa, il mio cellulare, le solite sigarette sempre a portata di mano. Vado in farmacia, torno indietro, mi squirlo al telefono, arrivo a casa. Giudice a casa di rullo. Però racconta di aver pensato. Quasi quasi fammi andare da lei a vedere Valentina. Cosa? Come sta nel caso? Salgo le scale. Disbieco. Vedo perché così riesco a vedere. La vale non è sul letto. La vale non la vedo. Vale, vale, chiamo. Il letto è pieno di sangue. Sangue da tutte le parti. Vado avanti. Cioè, quanto può essere? Un passo? La trovo seduta vicino la porta del bagno. Se la trova di fronte e lei è di spalla al muro, seduta. Però in questa posizione in avanti, con le braccia così, imita la posizione sulle ginocchia. Quindi proprio aveva le braccia in questo modo posate sulle ginocchia. Vale, 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 gridavo. Che cavolo hai fatto? Cosa hai fatto, figlia? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Scendo giù, vado a prendere il telefono. Dovevo chiamare il 118 in un modo o nell'altro, ma non parte la chiamata sul mio telefono perché ero molto agitata, molto nervosa per... Cosa devo fare in questo momento? Dice di aver pensato. Prendo il telefono di casa, sembri per chiamare il 118, automaticamente squilla. Rispondono su tutte e due i telefoni, su tutti e due i telefoni, sia il mio cellulare che quello di casa. Ora analizziamo una parte di questo monologo che Antonietta fa in aula. Il solito mio da fare in quella casa, come fosse casa mia, vedo se Raffaele ha messo la lavastoviglie, tutte queste cose. Vale, beve una camomilla, beve una tisana, le tiro le coperte su e, come vuoi, sono tentativi di rivendersi come madre e suocera amorevole. Avete notato che il racconto di Antonietta è quasi tutto al presente? Spesso chi falsifica i racconti coniuga il verbo al presente perché parla di fatti che non ha vissuto davvero. Valentina in effetti prendeva la pillola anticoncezionale per un ciclo di 21 giorni e quel giorno doveva iniziarne uno nuovo. C'è però una sottile ma evidente incongruenza. Quella mattina Raffaele aveva girato un video verso le 8 e 40. Nel video si vede chiaramente Valentina sul divano che sta dormendo e fatica a svegliarsi. Ma non solo, si inquadra anche una confezione delle pillole che Valentina avrebbe dovuto assumere. Quindi se la confezione era già in casa, perché Antonietta doveva uscire a comprarla? Tra l'altro Antonietta sottolinea che aveva controllato se in casa fosse tutto in ordine. Quindi avrebbe dovuto notare la scatola delle pillole disposta in bella vista sul tavolo della cucina. È chiaro che gli imputati mentono sull'acquisto delle pillole. Secondo l'accusa perché sono complici. Riguardo alla chiamata al 118 Antonietta dice di essere tornata a casa dopo essere stata in farmacia e di aver subito contattato i soccorsi. Ma la telefonata è stata fatta alle 13 e 40 mentre la farmacia chiude alle 12 e 30. Quindi non è chiaro perché Antonietta avrebbe aspettato così tanto per chiamare al 118. Al 118 Antonietta aveva raccontato anche di aver chiamato suo figlio al quale avrebbe detto Raffa figlio qui è finito il mondo. Mamma hai chiamato il 100? Avrebbe risposto Raffaele per poi riformulare. Ma Valentina sta bene chiama al 118. Ho fatto già. Antonietta anche su questa telefonata non dice il vero. Il figlio l'aveva chiamata alle 13 e 39 e solo dopo quella telefonata l'aveva chiamato il 118 alle 13 e 40. C'è una domanda che viene spontanea a chiedersi. Visto che è stato Raffaele a chiamare sua madre come ha fatto a beccare proprio il momento in cui lei stava per avvertire i soccorsi dopo il tragico evento? Ebbene una risposta c'è. Raffaele aveva installato diverse telecamere all'interno della camera e fuori sul balcone. L'uomo riusciva a vedere quanto ripreso dalle telecamere attraverso il suo cellulare dunque era in grado di verificare ciò che accadeva all'interno della casa. In pratica quando aveva chiamato la madre alle 13 e 39 era per darle l'ok alla chiamata da fare al 118. Quindi secondo l'accusa Raffaele la mente che ha architettato questo delitto aveva visto in diretta attraverso le telecamere la madre che tagliava i polsi di sua moglie. Credendola morta gli aveva poi dato il via libera affinché chiamasse i soccorsi. Ma sia lui che sua madre avevano sbagliato i loro calcoli. Infatti Valentina si era salvata. Ma c'è di più. Il PM è convinto che questo omicidio mancato sia stato minuziosamente premeditato. A Monte per tentare di smentire l'eventuale accusa di premeditazione Raffaele si era adoperato per certificare il malessere della moglie. Così l'aveva convinta a iniziare una terapia di coppia con uno psicologo. La coppia aveva sostenuto due sedute con uno psicologo individuato da Raffaele il dottor Piattella. La prima seduta risaliva al 23 giugno 2017 e da questa emergeva un forte risentimento da parte di Valentina nei confronti di Raffaele il quale riconosceva che lei non si fidava di lui. Lei chiedeva chiaramente al marito di sintonizzarsi di più sui bisogni della famiglia accusandolo di essere eccessivamente impegnato a occuparsi dei propri affari. A proposito del secondo colloquio Valentina aveva appreso che la seduta era stata quasi dimezzata perché lei si era sentita male. Era svenuta e aveva vomitato nel bagno dello studio del dottore. C'era appunto un problema. Valentina non ricordava nulla di tutto ciò. Questo è il primo episodio in cui si attraccia delle amnesie sofferte da Valentina anche se si sono verificate altre cose strane. Una vicina di casa riferendosi sempre all'estate del 2017 sostiene di aver visto Valentina con lo sguardo perso come fosse sotto l'effetto di sostanze. Il 15 di agosto Valentina, Raffaele e i loro due figli avevano festeggiato il ferragosto a Nusco in provincia di Avellino dei nonni di Raffaele. Durante la preparazione del pranzo Valentina come ricorda aveva apparecchiato la tavola insieme ai parenti di Raffaele. Ma quando si era seduta per pranzare si era sentita svenire e si era addormentata sul divano dietro al tavolo presente nella sala. Si era risvegliata dopo un paio d'ore, almeno questa è la versione di Raffaele e dei presenti al pranzo, ma di nuovo non ricordava nulla del malessere subito. Valentina ovviamente aveva chiesto maggiori spiegazioni e tutti le avevano detto che era molto stanca e stressata, si addormentava ovunque, probabilmente per il troppo carico di lavoro. Ora torniamo alla mattina del 5 ottobre. Raffaele aveva girato un altro video destinato al medico. Appoggiando il telefono affinché si mantenesse dritto aveva detto, dottore ora le faccio vedere come sta mia moglie. Si vede Raffaele che quasi sparisce dall'inquadratura, va verso il divano, tira sulla moglie e la accompagna, sempre sostenendola, verso la camera da letto. Poi Valentina si butta sul letto e va a sbattere con il capo sulla tastiera. In pronto soccorso infatti le avevano ritrovato un ematoma dietro alla nuca. Il video come detto era stato girato per il dottor Piattella, in quanto, spiega Raffaele, lui e il dottore avevano parlato in diverse sedute delle condizioni di salute di Valentina. Il dottore non può far altro che chiedere a Raffaele se Valentina stia assumendo qualche farmaco molto pesante, ma Raffaele sostiene che, per quanto ne sappia lui, Valentina non sta assumendo nessun tipo di farmaco. Secondo l'accusa Raffaele vuole rappresentare Valentina come una persona che assume sostanze e si dimentica le cose. Possiamo affermare con certezza che Valentina aveva questi episodi perché stava prendendo delle sostanze che la facevano addormentare oppure che le facevano perdere la memoria. La realtà è che Valentina però queste sostanze non le prendeva volontariamente. E allora chi gliele somministrava su insaputa? In casa c'era del bromazepam. Valentina l'aveva preso alla clinica in cui lavorava perché Raffaele nell'arco dell'anno lavorava spesso di notte e lei era molto stanca. Aveva bisogno che qualcuno le desse il cambio di notte per misurare la glicemia del figlio. Spesso chiedeva a sua mamma di fermarsi a casa per aiutarla, ma la madre, essendo una persona molto ansiosa, necessitava di qualcosa che la calmasse. Questa situazione andava avanti ormai da anni e Valentina gli aveva detto che non poteva continuare a rimanere sveglia tutta la notte, così sua madre l'aveva esortata a prendere questo farmaco. C'è da sottolineare che la madre di Valentina assumeva questo farmaco sotto controllo del medico, ma la boccetta che Valentina aveva portato a casa era ancora intatta. In realtà secondo l'accusa Raffaele Rullo lavorava da mesi per simulare il suicidio della moglie, somministrandole del bromazepam, questo farmaco ipnotico che l'aveva resa sempre più depressa, debole e smemorata. Infatti una bocciata di questa sostanza era stata trovata vuota sul comodino della camera da letto il giorno in cui Valentina venne portata al pronto soccorso. A questo punto l'accusa sottopone all'attenzione della corte un dato che dimostrerebbe senza ombra di dubbio la natura cinica, fredda e criminale dell'imputato. Valentina a questo proposito parla delle polizze vita a suo nome e spiega di aver scoperto, di averne due. Una stipulata con alleanza assicurazioni che prevede una copertura del valore di circa 30.000 euro in caso di morte. L'altra stipulata con la società Amundi che avrebbe dovuto coprire in caso di morte un importo di circa 150.000 euro. Quest'ultima polizza era stata sottoscritta a luglio 2017. Le venne comunicato che sarebbe entrata in copertura a partire da ottobre 2017 e Raffaele pagava regolarmente il premio che ammontava a 20,27 euro. Il periodo di copertura di questa polizza, attenzione, ascoltate bene, andava dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. I beneficiari di questa polizza erano gli eredi legittimi quindi il marito e i figli di Valentina, per altro minorenni. A questo punto c'è da fare una precisazione perché spesso le polizze non coprono i suicidi ma nel caso specifico della polizza sottoscritta con Amundi il suicidio non era previsto tra le cause di esclusione. Risulta palese il movente dell'imputato e cioè che Raffaele Rullo aveva deciso di ammazzare la moglie per riscuotere quanto previsto dalla polizza vita. Come sottolinea il PM deve aver pensato ok tanto già la devo fare fuori. Vediamo anche di guadagnarci qualcosina quindi spendo 20 euro per una polizza vita che dura tre mesi e in quei tre mesi faccio tutto. Lo faccio passare come un suicidio perché la polizza copre pure quello dunque ci guadagno 150 mila euro. La difesa al contrario sostiene che Raffaele non avrebbe mai potuto uccidere sua moglie perché la amava immensamente e stranamente pare proprio che fosse così. Dai messaggi recuperati dagli inquirenti risulta che lui non volesse in alcun modo essere lasciato da Valentina nonostante avesse delle amanti nonostante fosse spesso distante dai figli e lasciasse sua moglie da sola a occuparsi di un bambino chiaramente impegnativo. Arrivava quasi a omigliarsi e no non sto scherzando. Il fatto che non voglia essere lasciato però non cancella in alcun modo le azioni di cui si è macchiato almeno secondo l'accusa. È possibile che Raffaele non volesse rimanere da solo servendosi delle modalità canoniche quindi con un divorzio. La domanda è meglio un delitto rispetto a un divorzio emerge in molti case di cronaca. Tralasciando il fatto che Valentina presumo non gli abbia mai detto di voler divorziare, parliamo di un uomo che è innanzitutto ossessionato dai soldi. Inoltre ci sono queste amnesie di Valentina piuttosto preoccupanti che per quanto mi riguarda possono essere viste attraverso un'unica chiave di lettura, quella mostrata dall'accusa a processo. E qui vi voglio raccontare una cosa mia. È personale, fa parte di una mia esperienza e quindi visto che c'entra con questo caso a mio avviso voglio raccontarvi questa cosa. Io assumo un farmaco simile a causa della mia malattia e sì posso assicurarvi che quando lo si prende ci si sente totalmente fuori di cotenna. Infatti io lo assumo soltanto prima di andare a letto o arriverei davvero a dormire in piedi. Inoltre fatico a scandire le parole e già lo faccio normalmente e la cosa guardate un po' è peggiorata proprio assumendo questo farmaco. Dalle descrizioni che emergono a processo è chiaro che Valentina avesse in circolo uno psicofarmaco. Per quanto mi riguarda sapendo come ci si sente è palese mi ci ritrovo molto e poi c'è anche quel video. A processo l'hanno fatto vedere e se in un primo momento si osserva Valentina sdraiata sul divano con gli occhi chiusi dopo si nota che viene sorretta per poi buttarsi a letto come già vi ho raccontato. Ragazzi io posso davvero identificare quei movimenti nei miei prima di andare a dormire. Si vede che fatica a essere stabile, incespica un pochino, non cammina dritta e soprattutto lo sguardo perso nel vuoto. Le cose sono due o Valentina alle 8 e 40 del mattino si era appena fumata qualcosina di interessante oppure era completamente KO a causa della costante somministrazione di quei farmaci. Chissà poi in che dosi. Questo a me preoccupa perché a processo non viene detto e io non ho trovato nulla che indicasse le quantità di bromalzepam rilevato nel sangue di Valentina. Ci lascia ancora più sbalorditi considerare che dietro questo piano spietato c'è anche la madre di Raffaele, Antonietta, una sfocera amorevole insomma. Secondo il PM il piano messo in atto da Raffaele e Antonietta è il seguente. Raffaele dopo aver sedato la moglie si allontana dall'abitazione. La madre Antonietta somministra la nuora una forte dose di insulina e dopo averle tagliato le vene chiama i soccorsi. La presenza dell'insulina viene svelata dalle analisi del sangue fatte a Valentina. A casa di Valentina c'è effettivamente l'insulina. Ha suo figlio di 13 anni che, come detto, è diabetico di tipo 1, viene somministrata l'insulina tre volte al giorno prima di mangiare. Dunque ci sono anche le siringhe. L'aspetto più insidioso per la salute di Valentina è dato proprio dalla somministrazione di insulina, di cui però non c'è traccia quando avviene il tragico evento. Mi spiego meglio. In casa non c'è una seringa di insulina né qualcosa che possa far pensare che l'insulina sia stata assunta dalla donna. In questi casi se non si interviene subito con la soluzione glucosata una persona può morire nel giro di poco tempo. Quindi per la PM non c'è dubbio che l'insulina gliel'abbia somministrata Antonietta. Raffaele è quello che aveva organizzato tutto e che aveva l'interesse principale ad andare fino in fondo, ma non poteva agire senza la collaborazione della madre. Forse non voleva essere lui a sporcarsi le mani. Gli serviva un complice e quel complice lo aveva naturalmente trovato in sua madre. La stessa Antonietta l'ha sottolineato più volte. Lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per la famiglia. È chiaro dunque che non si tratta di un caso di tentato suicidio ma di tentato omicidio posto in essere da Raffaele e dalla madre. Ma la storia processuale di Raffaele e Antonietta non finisce qui perché secondo l'accusa poco più di un mese dopo aver tentato in vano di uccidere Valentina, la diabolica coppia avrebbe commesso un altro omicidio, quello di un giovane manager milanese, Andrea Larosa. Prima però facciamo un passo indietro. Pochi mesi prima di commettere il tentato omicidio ai danni della consorte e l'omicidio di Andrea, Raffaele si era messo alla ricerca di una pillola. Come dire, magica. No, non vi sto parlando di sostanza per una volta, bensì di una pillola chiamata NZT, pillola dell'intelligenza. Raffaele la cercava su Google la notte tra l'8 e il 9 luglio 2017. L'aveva vista nel film Limitless con Bradley Cooper e Robert De Niro e a dimostrazione di quanto ne avesse bisogno pensava che esistesse davvero. Annoteranno i giudici, Raffaele cerca di trovare il modo per poter diventare come il personaggio del film, sempre alla ricerca di soldi. Questo suo aspetto, sottolineato anche dalla stessa moglie, una macchina da soldi, sarà quello che lo porterà alla rovina. In questo caso si evidenzia fin da subito che Raffaele Rullo è un truffatore di assicurazioni. Andrea Larosa scompare nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017. I familiari di Andrea si allaravano immediatamente in quanto il ragazzo non è solito non rispondere tempestivamente al telefono, che siano chiamate o messaggi. Così la zia prova a contattare la sua fidanzata Estella ma non riceve rassicurazioni. Allora verso le 4.30 esce di casa e si reca in diversi ospedali di Milano, al Niguarda, al Fatebene Fratelli e al San Raffaele. Purtroppo di Andrea continua a non esservi traccia. La mamma di Andrea in questo momento si trova a Miami ma riesce a contattare gli amici di Andrea che vanno sotto casa sua sperando di incontrarlo ma non ricevono mai risposta. A questo punto la mamma di Andrea chiede alla propria sorella, ossia alla zia di Andrea, di andare a fare una denuncia di scomparsa. Un suo amico sostiene che la sera in cui è sparito Andrea gli ha fatto vedere un bel mucchietto di banconote che custodiva nei calzini ed è proprio su questo dato che si concentrano in inizialmente le indagini. Quella sera Andrea portava con sé una grossa somma di denaro, circa 8.000 euro. Ma perché aveva quei soldi? E chi era Andrea? Che lavoro faceva? Andrea lavorava nel campo della comunicazione ma non solo. A volte comprava in stock della merce per poi rivenderla alla grande distribuzione. Andrea inoltre era il direttore sportivo del Brugherio Calcio anche se per questa attività non percepiva denaro, la svolgeva per passione. La grande passione di Andrea era proprio il calcio ma queste informazioni non aiutano a capire né a cosa servissero quei soldi nascosti nei calzini né a giustificare la sua scomparsa. Allora gli investigatori ripercorrono la giornata del 14 novembre in cui si sono perse le sue tracce. Che cosa ha fatto Andrea? E con chi si è incontrato? La sera del 14 novembre al termine di una seduta di allenamento Andrea parla con un suo amico dicendogli che palle Gaetano sono pieno di soldi e devo andare in zona certosa che fai? Mi scorti? Gaetano però declina dicendo che ha un altro appuntamento, un altro impegno. In realtà non ha preso seriamente la richiesta di Andrea né ha avuto la percezione che lui gli avesse davvero chiesto aiuto. Estella la fidanzata di Andrea chiarisce che quest'ultimo doveva incontrarsi con Raffaele Rullo per consegnargli questi soldi quali dovevano sommarsi ai 30 mila euro che Andrea aveva già dato a Raffaele. Dopodiché in serata Andrea manda una foto a Estella dicendo che sta aspettando Raffaele davanti al McDonald in via Certosa. Poco dopo Andrea lo raggiunge quindi Andrea decide di seguirlo con la macchina per andare in un posto più tranquillo dove poter parlare. Ma perché Andrea doveva incontrare Raffaele Rullo? Ebbene vi ricordo che Raffaele Rullo è un truffatore di assicurazioni. Infatti racconta che il motivo dell'incontro era far sparire la macchina del ragazzo, denunciarne il furto e quindi chiedere il risarcimento all'assicurazione. Il primo contatto riferisce Raffaele a Viene in Viale Certosa. Raffaele è giunto davanti al McDonald chiede ad Andrea entriamo? Il ragazzo facendo di no con la testa quindi Raffaele gli dice ok allora seguimi. I due si recano verso la casa della madre di Raffaele che si trova a quarto giaro. Come accennato prima anche la madre di Raffaele Rullo Antonietta è imputata per l'omicidio di Andrea la Rosa. Il pubblico ministero è convinto che madre e figlio compongano una coppia diabolica sempre complice nel programmare e commettere delitti. Ed è proprio sotto casa di Antonietta in via cogne che Andrea e Raffaele si fermano in macchina a chiacchierare. Parcheggiata la macchina Raffaele sale nell'auto di Andrea. A quanto dice Raffaele i due chiacchierano di auto e tecnologia. Verso le 22.30 la madre di Raffaele passa sul marciapiede dall'altra parte della strada e li saluta con la mano da lontano. Alle 22.46 Raffaele chiama al lavoro per avvisare che avrebbe fatto tardi. Come scusa inventa di essere al pronto soccorso con la moglie perché si è sentita male. Valentina quella sera in realtà è a casa non sta male si è addormentata nel lettone insieme ai suoi bambini. A distanza di altri 10 minuti Raffaele chiama sua madre per avvisarla che sarebbe andato al lavoro in ritardo. Infine Raffaele resta con Andrea fino all'1.35 prima di andarsene gli dice che può passare quando vuole per parcheggiare lì la macchina e lasciare le chiavi nella cassetta della posta di sua madre Antonietta. Poi a quanto dice Raffaele si reca al lavoro lasciando Andrea sotto casa di sua madre. Da questo momento nessuno vedrà più il ragazzo. Dalle indagini emerge il primo fatto strano. Infatti quella sera alle 22.39 Estella manda ad Andrea tre messaggi ai quali cosa mai successa prima? Il fidanzato risponde dopo tre ore cioè all'1.35. Le scrive Azz ho sonno dopo chiamami. Espressioni che Andrea non usava come conferma Estella agli investigatori. Anzi Estella sottolinea anche che solitamente i due la sera non si chiamavano mai non si sentivano mai per telefono ma tramite messaggio. Gli inquirenti capiscono che qualcosa non quadra. Eppure la vita di Andrea non presenta evidenti ombre. Ha studiato alla prestigiosa Università Bocconi. Provide da una buona famiglia. Non ha effettuato alcun prelievo consistente di denaro che lasci pensare a un allontanamento volontario. Non ha prenotato biglietti aerei o ferroviari. Non è sopraggiunta alcuna notizia che lo riguardi dagli ospedali. La polizia però scopre che fra Estella e Raffaele Rullo esisteva un rapporto di amicizia tanto che la giovane gli aveva confidato di tradire il fidanzato con un uomo di nome Emanuele. Ebbene proprio la mattina successiva alla scomparsa di Andrea Larosa Raffaele fa una telefonata a Estella di grande interesse secondo l'accusa perché l'imputato collega subdolamente la scomparsa di Andrea al tradimento di Estella. Durante questa chiamata Emanuele era presente e sente Raffaele che dice a Estella che Andrea la sera prima aveva rotto il cellulare dopo aver scoperto il tradimento. Si era arrabbiato, aveva iniziato a urlare, poi aveva preso la macchina e se n'era andato. A smentire le parole di Raffaele è proprio Estella che ammette in aula che Andrea sapeva perfettamente che lei aveva una relazione con un altro uomo. Estella pensa che Andrea allontanandosi voglia punirla per il suo tradimento, aiutato da Raffaele Rullo. Ma irrompe sulla scena una notizia di particolare rilevanza. Dalle intercettazioni delle telefonate tra Raffaele e la madre si evidenziano dei movimenti sospetti di Antonietta. La donna viene pedinata circa un mese dopo la scomparsa di Andrea e si scopre che aveva portato un grosso bidone di metallo nel magazzino di un certo Alessandro Cascella. Quest'ultimo vedendo Antonietta comportarsi in modo sospettoso negli ultimi tempi aveva chiesto quando il bidone gli sarebbe stato restituito. Uscita dalla rimessa e intercettata Antonietta pare agitata, impreca, è preoccupata. Dopo essersi allontanata imbocca la strada che la porta sulla Milano Meda ed è qui che i carabinieri fermano la donna. Le chiedono cosa sta trasportando. Antonietta risponde olio ma loro vogliono controllare. Le ordinano di aprire il bagagliaio e dunque il bidone. Antonietta messa alle strette obbedisce svelando ai carabinieri il contenuto del bidone. Lì dentro c'è il corpo senza vita di Andrea Larosa. Antonietta viene subito scortata in centrale, le viene assegnato un avvocato d'ufficio al quale lei sceglie di non mentire dicendogli semplicemente mi hanno beccato con le mani nella Nutella. Tra l'altro questa frase la ripeterà anche al processo dicendola al giudice. L'avvocato la mette in guardia. O si avvale della facoltà di non rispondere oppure dovrà essere chiara, evitare di cambiare versione e raccontare cosa è successo davvero. Antonietta preferisce raccontare quello che ha fatto. Una volta processo si discute dell'autopsia sul corpo di Andrea, alterato dallo stato di decomposizione. Durante la pulitura del cadavere emerge che gran parte della mano destra e una parte dell'alluce destro sono completamente corrosi dall'azione dell'acido versato nel bidone nel tentativo di sciogliere il corpo. Questa è la prima tipologia di lesioni. La seconda tipologia è da imputare al ricorso ad arma bianca quindi si tratta di lesioni da taglio. Se ne evidenziano 5 sul volto e sul collo di Andrea. Quindi il ragazzo era stata tagliata la gola ma non era ancora morto. Andrea era venuto a mancare per asfissia meccanica dovuta al confinamento all'interno del bidone e per l'effetto nocivo sui polmoni causato dall'inalazione dei fumi dell'acido cloridico. Quindi Andrea era stato rinchiuso nel bidone mentre era ancora vivo ed era morto lì dentro. Inoltre le analisi tossicologiche rilevano la presenza in alcuni liquidi del lormetalzepam, un farmaco indicato per il trattamento a breve termine dell'insonnia. Raffaele sostiene che era lui ad assumere il lormetalzepam perché lavorando anche di notte faticava molto a prendere sonno. Ma l'accusa è convinta che quel farmaco sia stato dato ad Andrea per sedarlo prima di commettere l'aggressione e mettere il suo corpo nel bidone. Antonietta riguardo all'omicidio di Andrea dice di essere l'unica colpevole e che il figlio non c'entrava nulla. La donna racconta in aula una versione assurda sostenendo che la notte della scomparsa di Andrea era stato lui ad aggredirla sia fisicamente che verbalmente quando era scesa per portare a spasso i cani. Quindi lei l'aveva attirato in cantina e l'aveva accoltellato per poi mettere il suo corpo nel bidone. Ma l'accusa ovviamente non crede a questa versione e convinta che madre e figlio sono complici del brutale omicidio di Andrea la Rosa. Ci sono però prove sufficienti per condannare Raffaele al di là di ogni ragionevole dubbio? Secondo l'accusa sì. Il primo dato che viene esaminato è il seguente. Il giorno successivo alla scomparsa di Andrea Raffaele era stato convocato in caserma dai carabinieri e senza un apparente motivo aveva portato con sé anche l'anziana madre. Raffaele spiega che in realtà era stata sua madre Valentina a imporglielo in quanto voleva tenerla d'occhio. Ma è ovvio che anche questa versione non sta in piedi infatti se Valentina avesse davvero voluto controllare Raffaele sarebbe andata in prima persona con suo marito in caserma. La verità è che Raffaele aveva portato con sé la madre perché quest'ultima aveva il compito di dire che suo figlio si era già allontanato quando lei aveva visto Andrea vivo l'ultima volta. Inoltre Valentina viene a scoprire di un incontro tra Raffaele, Antonietta e la figlia Sara all'interno del box di Seveso. Sara a proposito di questo incontro riferisce a Valentina che si erano visti nel box di casa e avevano parlato delle mosse da attuare il 14 novembre, imbastendo una storia da raccontare sulla scomparsa di Andrea. Secondo l'accusa la coppia diabolica formata da madre e figlio voleva tentare in tutti i modi di tipistare le indagini e nascondere la verità coinvolgendo anche l'ignara Sara, ossia la sorella di Raffaele. Ma passiamo a esaminare un'ulteriore prova contro Raffaele. Il corpo di Andrea, come detto, era stato trovato cosparso di acido in un grosso bidone di metallo. Ma dove era stato comprato? E da chi? Il bidone è nello specifico un fusto vuoto che appartiene al titolare di un negozio di ferramenta di Seveso. Raffaele quindi aveva preso in prestito il bidone e lo aveva portato a casa di sua mamma insieme a una fitta documentazione perché, spiega Raffaele, essendo un truffatore, aveva carte d'identità, carte di credito, timbri del comune e altra roba da far sparire. Allo stesso ferramenta Raffaele aveva chiesto di procurargli dell'acido cloridrico. Raffaele spiega che l'acido serviva per eliminare davvero tutte le prove che vi ho citato prima. Ma perché Raffaele Rullo aveva ucciso Andrea Larosa? Cosa legava davvero la vittima al suo carnefice? Ebbene Andrea Larosa aveva prestato dei soldi a Raffaele. Dalle perquisizioni condotte a casa di Andrea Larosa era stata rinvenuta la stampa di un'email sulla quale erano riportate varie cifre associate a soggetti diversi. Cifre che erano riferibili a prestiti o debiti concessi da Andrea. Sul conto di Andrea non si riscontra alcun bonifico da parte di Raffaele che possa attestare la restituzione del denaro. Sul conto di Raffaele piuttosto c'è un saldo negativo di meno 1429,46 euro. Raffaele Rullo aveva un debito verso Andrea di circa 30.000 euro. In più erano spariti gli 8.000 euro che la vittima portava con sé la sera in cui era stato ucciso. Quindi il debito ammontava 38.000 euro. Andrea, lo si accerta di lì a poco, era stato infatti attirato da Raffaele in una trappola innescata al McDonald's di Viale Certosa Milano. Vieni a casa ti faccio conoscere mamma. Andrea non era tranquillo e aveva inviato un messaggio a un amico. Sono in Viale Certosa, se mi rapiscono sai dove sono, per quell'operazione che ti ho detto, poi ti spiego, ma dove cazzo mi stanno portando? Antonietta si era presentata come una donna premurosa, ma nel caffè offerta ad Andrea aveva sciolto delle sostanze narcotizzanti. Gli due avevano infilato Andrea nel fusto e prima di sigillarlo, quando il ragazzo era ancora vivo, vi avevano versato dentro dei flaconi di acido. Nel garage di Seveso, dove è stata tenuta all'auto contenente il bidone, i carabinieri hanno trovato 24 flacconi di acido muriatico. 24! Facciamo ora un passo indietro. Il 7 novembre, una settimana prima di uccidere Andrea, Raffaele aveva cercato sul motore di ricerca acido, bidone, teli protettivi, seghe elettriche. E ancora, calcolare il volume di una persona e il principio di Archimede, dettagli necessari per trovare il contenitore adatto in cui far sparire il cadavere. E certo, la NZT, la pillola dell'intelligenza, sarebbe stata utile. Ma ora Raffaele lo sa, non esiste. O almeno esiste solo nel film con Bradley Cooper. Andrea Larosa dunque era stato ucciso, secondo le indagini dei carabinieri, nella cantina di un edificio in Via Cogne, a Quarto Giaro, dove abitava la madre di Raffaele. Era stato attirato dai due in una trappola perché Raffaele Rullo aveva un debito con la vittima e non voleva saldarlo. Raffaele Rullo e Antonietta Biancaniello vengono condannati entrambi all'ergastolo. E meno male, aggiungerei. Viene confermata l'accusa di omicidio aggravato da premeditazione e crudeltà, nonché occultamento e soppressione del cadavere. Per Raffaele Rullo è previsto anche l'isolamento diurno per sei mesi. Antonietta Biancaniello e Raffaele Rullo sono stati condannati anche per il tentato omicidio della moglie di lui, Valentina Angotti, messo in atto al fine di ottenere i 150.000 euro come risarcimento della polizza vita a lei intestata. I due avevano drogato Valentina con una massiccia dose di psicofarmaci e le avevano tagliato le vene. Ma questo non era stato sufficiente a ucciderla. E nemmeno l'iniezione di insulina che l'aveva portata al coma, ma non alla morte. Per molto tempo la donna aveva creduto alla versione del marito e della suocera. Cioè pensava davvero di aver tentato di togliersi la vita. Io non immagino lo shock di questa donna. Non lo voglio proprio immaginare. Davvero, io se fossi in Valentina non so come avrei preso questa cosa. Comunque a processo si vede che è molto provata. Molto, molto provata. Perché lei ovviamente è testimonia e davvero a volte si ferma, prende dei grossi respiri, cerca di farsi coraggio. Cioè si vede che soffre nell'essere lì. Si vede. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Voi conoscevate questo caso? Io non benissimo, non in questo modo. E non avevo capito che ci fosse anche la madre di mezzo. Perché la cosa che mi ha scioccata è che a commettere questo omicidio, a commettere quel tentato omicidio, sono stati figlio e madre. Ed è sempre per una questione di soldi. Sempre. Boh, io davvero, questo vil denaro, io non... mi trovo davvero molto in difficoltà. Perché, non lo so, ci sono davvero delle persone che ritengono il soldo più importante di una vita umana. E questa cosa davvero mi fa ribrezzo. Mi fa davvero, davvero ribrezzo. Io credo che, lo dico chiaramente, l'ergastolo sia una pena più che giusta. E fortunatamente né l'appello né la cassazione hanno alleggerito la pena. Loro si faranno, si presume, 30 anni di carcere. Poi può esserci la buona condotta, però sicuramente staranno al fresco per un bel po'. E meno male. E davvero meno male. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Sapete che io sono sempre molto curiosa di sapere le vostre opinioni, quindi ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!